Buongiorno cari amici, buongiorno cari amiche, come state? Con la minuscola stiamo in sala da pranzo, ci godiamo ancora un po' il fresco, le tapparelle sono abbassate, bloccate dalle zanzariere, quelle fisse e sensibili. Lei non so, ma io sono stanca, lei intendo la minuscola. Oggi accuso proprio la fatica della messa a posto, accattastamento di tutti, quei sei quintali di legna, rassetto della cantina legnaia. A socio passa, ma mi fa mal da tutte le parti. Sono tutta malata, sempre stata di bolli da zanzari, mi ronzavano intorno, ma che belve. Per fortuna a un certo punto il mio corpo si è, non lo so come, me l'ho estetizzato da solo, ma questa mattina è sveglio. Quindi per poter dormire e non scendere a prendere l'antistamico, che lo tengo nella borsa, nel portafoglio, forse poi un aggeggio che mi porto sempre a presto. Anche perché l'oreste stanotte, uffi, uffi, alle tre sembrava giorno, inquieto, non voleva stare in casa, non voleva stare fuori, aveva il suo cibo e smiagolava e mi veniva dal cuscino. Poi lui fa un lamento, proprio come un bambino che piagnucola. Mi sembra quasi che chiami mamma. Cosa aveva? Non si sa. L'ho messo lì vicino a me, un po' c'è stato, poi mi prendeva mozzichi. Già mi hanno preso mozzichi da zanzari, quindi ora non lo prendo a stomaco vuoto, l'antistamico, non ci penso neanche. E poi pastiglietta e a viaggiare. Cosa faccio oggi? Un piffero oggi. Si, metto, divento liutaia. No, oggi faccio solo un uncinetto. La gonina della bimba, la gonina che poi sarà una scamiciata, anche crescendo poi diventerà una gonina. È lì che aspettano. Adesso un stand-by con la maglia, vado avanti con l'uncinetto. Ho terminato il primo gomitolo utilizzato per quel triangolo, che ha una destinatrice, che sarà la mia amica Alejandra. L'ho vista così, beh, che bello. Oh, ma che strano! Oh, ma che bello! Ma come sono diversi insieme! E guardavo, lo toccavo. Poi aveva un vestito, in una foto lo intravedete, intravedete la fantasia. Un vestito chiaro, un bel vestitino, un po' anni 50. Chiaro con dei fiori, su questo sfondo dei fiori anche azzurri. È proprio perfetto, c'è una tonalità poi che è proprio quella. E starà bene con i colori nocciola di Alejandra e i suoi capelli caldi. Bene, sono contenta perché è vero che l'ho ricevuto come dono, questo filato, ma la persona che me l'ha regalato sa che io gioco. E quindi il senso di utilizzare i filati o li conservo proprio per l'eternità o quando li adopero mi devono far divertire. E quindi fare... Ieri è stata una giornata veramente particolare che è finita in un modo che non vi posso raccontare, con una sorpresa e poi con la partecipazione di una personale esperienza molto, molto toccante, ma per il momento e poi per il fatto di avermela così porta, posta, porta, porciuta. E non me l'aspettavo, non sapevo di questa cosa qua e quindi ieri ho tutti questi doni, questi momenti, queste confidenze, questi ragionamenti, queste partecipazioni di idee riguardo a materiali, a tecniche. Un risultato che sono riuscito a far rendere a distanza, magari non è per tutti, ci vuole un occhio allenato e poi proprio il termine utilizzato per definire quanto sto manifestando con quell'abbinamento di filati che poi è un argomento che avevo già preparato, avevo già registrato un vocale che non si riesce a togliere dalla memoria di questo cellulare e trasferirla altrove e quindi dovrò rideddicarmi, ci mi aspetto all'ispirazione. Ecco, oggi non è giornata. Oggi è da grattatine qua e là. Allora, tutto quello che ci viene e che partecipiamo nella nostra vita possiamo ricondividerlo. Quindi ieri, poi quel momento, ma guarda che giornata, le sorprese, le belle ore di chiacchiera e non avremmo finito mai, insomma, dovevamo rientrare a casa entrambe. Ma ecco, quelle ore volate così ad ascoltare racconti di una bella vacanza, a vedere l'entusiasmo negli occhi della mia amica, che anche lei sono anni che passano momenti non semplici, anni, parliamo non di giorni. E questo entusiasmo che poi alla fine ci porta a parlare di quello che è bello, di quello che c'era serena, di quello che ci piace e quindi i nostri lavori, le nostre esperienze con i filati. Mi sono arrivati quel cadeau dalla sua vacanza. Una persona che vi pensa in vacanza, vi vuole bene, eh? Ah, che bello! E poi il risultato da questo dono che poi viene trasformato, intendo il filato che sto, questo, l'azzurro, perché il lino è mio. Ecco, questo dono che arriva a me, che poi lo trasformo e lo passo a un'amica. Una cosa bellissima, che meno male, la persona che mi ha regalato il filato comprende, insomma. L'ho regalata a te, invece ho avuto conferma, insomma. Ecco, le conferme dalle persone le abbiamo passo passo, non è che possiamo pensare di conoscere le persone rispetto a quello che ci sono apparse il primo giorno o i primi momenti, no? Ci aspettiamo, ma le persone fanno esperienze anche loro di giorno in giorno, quindi le reazioni alle esperienze formano la persona, la forgiano e quindi è certo che avremo, possiamo avere delle sorprese, di qualsiasi genere, eh? Non so, perché quando si parla di sorpresa adesso si pensa sempre a qualcosa di nefasto, o di sgradevole, che arrivano, eh, eh, arrivano, eh, però no, no, non forse sarà che io poi non sono così una persona, ehm, come si può dire, negativa, insomma, mi aspetto sempre il meglio, ma era quello che mi dicevano da piccolo, ma te sei sempre contenta? Ma me lo dicevano anche un po', vuoi dire, ecco, me l'ha un po' tirata, devo dire la verità, mi sono arrivata di quelle robe. Sì, in effetti, io mi svegliavo contenta la mattina, fino a un certo momento della mia vita, mi svegliavo contenta. Adesso non mi sveglio scontenta, però sono una donna di 60 anni, che ne ha già viste, sentite, e sa che sarà così fino all'ultimo giorno della sua vita, insomma, siamo sempre lì. E quindi arriva una certa, non so se è saggezza, ma non lo so, però, però, passiamo oltre, perché c'è un passare oltre, c'è un attendere, un attendere per organizzare, e, beh, no, ci sono, bisogna dare retta a quello che riteniamo dei valori, bisogna rispettarci, rispettarci nei valori, e quindi ci sono delle determinazioni che ci fanno bene, ci sono del, ma lascia perdere, che ci faranno male per sempre, perché, in certi, lascia perdere, lasciamo che altre persone vengano coinvolte in qualcosa, che non è giusto sia, e quindi, anche no, ecco, poi, guardate un po' voi la vostra coscienza, ognuno guardi la propria, ma io penso a questo bel dono, della confidenza di ieri sera, che mi ha tolto proprio il respiro, e, c'è poco da dire, in quei casi, è solo, si può solo inviare un abbraccio, dico, ma guarda che bello, che, e, poi, bello il tono, bella la maniera, bella, cioè, in questa occasione, io ricevo un dono, da parte, dall'altra parte, invece, in quell'occasione, in quel giorno, si è beccato uno dei miei sfoghi, e, in questo momento, è l'unica persona con la quale io sento, che posso parlare, di, di certi argomenti, ecco, che mi posso proprio sbracare, e meno male, perché, altrimenti, questa pentola, pressione, è altro che, scoperchiamenti, sentite, po' che tono, ah, un po' così, vabbè, passerà, passerà, adesso finisco la mia colazione, mi bevo il mio caffè, di cicoria, dove dentro galleggia un tocchettino, del gatto del Savoà, che ho cotto nel fornetto Versiglia, allora, ribadisco, che, la sua cottura ottimale, è nello stampo scanalato, conico, perché il cuore di questo dolce, non è che rimane cremoso, no, ma rimane sfoglioso, nonostante non ci sia la presenza, la presenza né di burro, né di olio, è particolare, come cambiano, ehm, come cambiano veramente, certi risultati, a secondo di, di come, no, ecco, questa ricetta, quelle dosi, e la cottura, nel suo stampo, dove io uso il burro, lo metto nel frigo, ritiro lo stampo, metto l'impasto, veloce nel forno, e mi viene benissimo, anche nel forno a legna, stranamente, perché i dolci levitati, nel mio forno a legna, non vengono bene, perché non c'è una cottura, uniforme, perché non arriva, probabilmente, a certe temperature, o non sono appunto costanti, invece, l'allegatore e savoa, l'ho fatto uno, due, e mi è venuto bene, e anche il tutto uovo e cioccolato, quello senza, quel dolce senza zuccheri aggiunti, farine, se non qualche, che ne so, ci aggiungo, a volte ci ho aggiunto delle mandorle, cose così, però l'impasto quello è, ecco, ed è venuto soffice, ed è venuto proprio sofficino, senza quella pellicola, è cotto, nella superficie, ha preso anche leggermente colore, cosa che è difficile, con i dolci nel forno a legna, a versilia, ma è buono, è buono, è buono, sono contenta, e sta benissimo, con il caffè di cicoria, che non mi ricordavo, di averne lasciato un po' nel brico, quando stamattina, ho ravboccato i liquidi, perché non posso dire acqua e liquidi, che c'è già altro, nel brico, nel mio bollitore, ho preparato l'acqua per farmi, pensavo un tè, non ci pensavo, io in sera ho detto, lo svuoto e lo sciacquo subito, invece non l'ho fatto, ce n'era rimasta abbastanza, di caffè di cicoria, con le scorzette ancora lì, e beh, me lo sono trovato stamattina, invece che il tè, caffè di cicoria, c'era un altro bel bicchiere, una bella, un'altra bella tazza, una mug, e buono, dai ricominciamo, ma il mio caffè di cicoria, mi piace tanto, quando lo preparo sulla stufa legna, quando c'è quel piano caldo, sempre lì disponibile, quel focolare, che accoglie le persone raminghe, che cercano conforto, che vengono a bersi un caffè, che le merende condivise con le amiche, è bello, chissà perché, e poi sono i giorni più freddi, che in realtà, umanamente, diventano i giorni più caldi, allora adesso io con questo vi saluto, vi dico le misure che ho raggiunto, terminando questo primo gomitolo da 25 grammi, e che conta, non me lo ricordo mica a memoria, sapete quanti metri, vieni qua, dimmi le tue cose, allora, 25 grammi, 190 metri, ho ottenuto un triangolo, che ha il lato lungo di 90 centimetri, la diagonale di 54, le due diagonali, e l'altezza è di, ho scritto malissimo, 30, come è scritto Lorenza? 33, 34, non lo so, ho fatto un robot, che sembra, un otto diagonale, con un gambetto giù, non è un 4, adesso non ve lo misuro, quindi staremo a vedere, mi piace, prende la forma, dei miei triangoli preferiti, che non sono mai, troppo, abbondanti, che non hanno mai, le punte, che arrivano eccessivamente, insomma, per me, ecco, non mi piacciono, i triangoli, troppo, troppo larghi, mentre, pensando come, come accessori, da utilizzarsi all'esterno, mentre per i capi, da usarsi agli accessori, gli scaldacosi, quindi, triangoli, rettangoli, quadrati, che sono i miei, anche le figure, piuttosto asimmetriche, anche irregolari, i miei sciagli da divano, ecco, lì non ho regole, dove arrivo, metto il punto, anche perché li immagino, anche indossabili all'esterno, magari modellandoli, piegandoli, però un triangolo aperto, che all'esterno, non mi, no, mi piacciono, che assomiglino quasi, ecco, alle bactos, così, che si possono avvolgere, più volte intorno al collo, oppure, che mi diventino, degli incrociatini, com'è di tradizione, com'è la tradizione, delle mie parti, ora vi auguro, una buona giornata, mi ascolto, una cosa bella, che mi piace, che ce l'ho tutte le settimane, tutti i giorni, tutti, dal lunedì, al venerdì, io alle 9 e un quarto, un appuntamento, e allora, vado ad ascoltarmi, le cose che mi fa piacere ascoltare, vi auguro, tante cose buone, e poi ci sentiremo, ancora in giornata, ciao!